Il mito è tornato, scampoli e scampoli è qui, al Residence Falcone sulla strada statale 114, chilometro 4 e 200 di fronte al rifornimento IP, percorrendo la breve discesa. Parcheggio facile, entra e non crederai ai tuoi occhi, locali grandissimi e qualità semplicemente superiore e ti propone un'esplosiva vendita di fine stagione, sconti sfacciati fino al 50% ed oltre, su tessuti anche per cerimonia, sulle tende grandi firme e sulle tappezzerie d'autore. Approfitta delle ceste ad un euro e delle incredibili riduzioni su piumoni e piumini, blade e lenzuola, sulla strada statale 114, chilometro 4 e 200 di fronte al rifornimento IP.